Ancora bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con i attratti per traffico verso nord tra Calenzane e B1 Variante, carreggiato opposto ai rallentamenti per traffico tra B1 Variante e Badia, prudenza per vento forte segnalato sull'intero tracciato della Firenze Pisa-Livorno, in A12 tra biodiramazione Livorno e l'allacciamento con l'Aurelia e sulla diramazione Lucca-Viareggio tra biodiramazione Pisa-SGC e biodiramazione Pisa-Raccordo-Pisa-Centro. Fibili due chilometri stabili di coda per lavoro in direzione mare tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Vienna delle 18.25 segnalato in partenza con un'ora circa di ritardo alle 19.20. Stessa situazione per il volo Pisa-Parigi delle 16.35 segnalato in partenza alle 17.25. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!